Il Galilei Campailla di Modica si conferma un istituto di eccellenza incassando riconoscimenti in ambito regionale e nazionale. Ieri nell'auditorium della scuola si è tenuta una cerimonia dedicata agli studenti meritevoli che nel corso dell'anno scolastico, appena concluso, si sono particolarmente contraddistinti. Sono stati 51 i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. A loro è andato un attestato di merito. 19 di questi hanno conseguito anche la lode. Altri risultati importanti sono arrivati per 46 studenti che hanno ricevuto un attestato di eccellenza. Il dirigente scolastico professor Seggio Carruba ha espresso soddisfazione per gli attestati di merito e di eccellenza consegnati durante la cerimonia. Un momento importante si è appena concluso per il nostro istituto del Galilei Campailla che si conferma istituto di eccellenza. Quest'anno abbiamo avuto 51 ragazzi che hanno raggiunto il massimo dei voti e di questi 19 hanno avuto anche la lode. Veramente un espluat che non ci saremmo, non dico aspettati, ma come quantitativamente sicuramente non abbiamo mai raggiunto questi numeri. siamo sempre stati sui 20-30. Quindi mi sembrava giusto invitare la televisione e tutte le testate giornalistiche perché è un momento importante per la città di Modica e per il nostro istituto. Abbiamo appena finito di premiare questi 51 ragazzi con l'augurio che possono avere un grande successo nella loro vita. Il Galilei Campailla rappresenta per gli studenti un'occasione per esprimere al massimo le loro potenzialità in ambito scolastico e prepararsi bene al futuro universitario.